www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio, ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. Kradio Bologna chiocciolagmail.com Eh no, il bello lo so, lo so, è così, poi lo sa anche la Jacqueline, lo sa, lo sa che questa sera c'è il grande fratello, prove tecniche di trasmissione. Lo so, lo so, e allora entrerà forse il capucetto rosso, forse, eh, sta girando in mezzo al bosco. Trasmissioni sperimentali, Kradio, prove tecniche. Chi? Eh, non si sa chi. Ciao ciao. Ciao ciao. Sei all'ascolto di Kradio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato, un nuovo presente. Kradio Bologna chiocciolagmail.com Fine prove tecniche di trasmissione Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Grazie.